Mi vado un po' dietro? Faccio tipo così. Va benissimo, anzi io, la telecamera. Allora, siamo all'anteprima di Guardiani della Galassia. Quanto dei Guardiani della Galassia c'è in te? E quanto la musica è importante? Tutta la squadra. Tutta? Non c'è un preferito? No, perché ogni uno di loro c'ha... Vabbè, se ci devo pensare, Groot, diciamo... Groot è il mio preferito, cioè perché è simpatico. Cioè, è un po' mi sono così, però sono tutti i miei preferiti, diciamo. Invece la musica nel film, anche questo, giocherà un ruolo importante. Tu, quanto musicista, mi dai un parere sull'uso della musica nei film? La cosa importante con la musica nei film è che ti dà quel suspense, ti dà un po' quelle emozioni. Diciamo che tutto di filmarlo andrò... Cerco di dare i suoni giusti per anche comunicare solo con i sentimenti. Quindi, io dell'ora. Qual è la canzone che ti piace di più dei Guardiani? Io lo posso dire, perché poi ti puoi fare in base di mazzola. Lo posso, lo posso, lo posso. Ok, buona visione. Grazie. Ciao.